we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia mamma mia qualche ora fa lo abbiamo vissuto più o meno tutti c'è stato finalmente parte importante dell'evento del vulcano è successo di tutto e di più ed infatti nel video di oggi voglio un attimo ragguagliarvi su tutto quello che è capitato e su tutto quello che potrebbe capitare con le nostre vulcano news parleremo però anche ragazzi di un argomento importantissimo che è l'account merge quindi no merda merge che è la possibilità di unire due account per fonderne appunto tutti gli oggetti vbucks e su salva al mondo invece il ama ed ottenerne uno solo e ragazzi patch 8.51 prevista per tra qualche ora in poche parole vi farò sapere con le novità ovviamente che porta voglio però ringraziare tantissimi di voi che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza per supportare il canale mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto se la trovo di attivare la campanella per non perdere nessuna notizia sui miei video e sulle mie live ma prima però ragazzi questa ve la devo fare questa ve devo fare la domandina ragazzi la domandina ci tengo tantissimo ed è una domandina che sta cominciando a diventare per gli og player come sappiamo ragazzi se non lo sapete ve lo dico io ieri era il giorno in cui fu rilasciata la season numero 4 e la domanda di oggi è ma tu hai completato tutti gli stili di omega vi ricordo che non era proprio così facile la cosa perché fu l'unica season nel quale la skin finale che appunto fu omega non era possibile continuare nella season successiva quindi voi ce li avete tutti gli stili di omega ditemelo qua sotto nei commenti che ci tengo tantissimo a saperlo ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance si va si va si va e si va subito a vedere la runa numero 5 ragazzi ultima runa finalmente attiva a sponde del saccheggio tutte e 5 i portali sono luminosi fluorescenti la particolarità di questa runa che è quella che ha dato poi il via ad una serie di eventi accaduti ieri è proprio quel cerchio verde che vi ho fatto vedere quella freccia che punta verso il basso dopo aver ovviamente capito che il disegno in sé rappresentava il vulcano si ragazzi perché ieri dalle 18 la mappa ha iniziato a tremare in maniera costante il vulcano faceva dei suoni davvero molto molto evidenti e si cominciavano a vedere le prime eruzioni ma la cosa più particolare è stato proprio il fatto che nutrendo tra virgolette il vulcano con materiali e munizioni venivamo ricompensati con lo shield quindi bastava semplicemente mettersi sul bordo o sulla bocca del vulcano e droppare la roba per ottenere lo shield è durato una ventina di minuti abbondanti questa cosa perché dopo perché poi non era più possibile droppare cioè era possibile droppare ma non serviva a nulla quindi il vulcano ha ottenuto tutto il materiale necessario per attivarsi quindi ragazzi attenzione perché in realtà sarà colpa nostra se corso commercio e pinnacoli pendenti verrà distrutta dal vulcano siamo stati noi che lo abbiamo nutrito e ovviamente ragazzi questo grandissimo evento non poteva che portare uno dei bug più grandi e meravigliosi che sono capitati su fortnite a questa ve la faccio vedere dopo ragazzi qua siamo a sponde cosa è successo è successo che completamente a caso ad un certo punto la runa è esponata a salti spring ma perché perché a caso raga qua siamo vicino come vedete dovrebbe essere salti dovrebbe essere il certo bisunto se non ricordo male e c'era in mezzo agli alberi la runa lì che diamine fa giustamente proviamo a svegliarla ma non si può fare nulla ragazzi non si è capito bene il perché e tra l'altro alcuni di voi mi hanno detto che succedeva praticamente che ne sponde del saccheggio la runa scendeva e si alzava scendeva e si alzava scendeva e si alzava quindi i ragazzi probabilmente fixeranno avranno già fixato nelle ore notturne questo bug che non poteva non chiudere in bellezza una delle season sicuramente con più bug in assoluto una leggera rettifica invece è proprio questa immagine ieri vi ho fatto vedere l'immagine con tutti gli schermi completati in realtà ero già avanti attualmente perché poi mi ha detto no scudermi non li vedo tutti completati non è che non posso fare no no tranquilli l'immagine ufficiale è questa ragazzi quattro schermi su sei hanno l'immagine l'ultima immagine è stata la mitraglietta tattica che vedete proprio là sopra qua mi si taglia il dito quindi ragazzi tutto normale non preoccupatevi ma andiamo avanti e due parole spese anche sulla conclusione della storia d'amore tra le statue rocciose iniziata la precedente season ragazzi dove si muovevano sono andate in giro per la mappa si sono incontrate una delle due è caduta nella lava ma da poche ore eccole qua ragazzi ricongiunte staremo a vedere se questa storia andrà avanti oppure è semplicemente un lieto fine siccome non ci hanno in mente di mettere a posto i bug file cagate sulle statue di roccia ragazzi ma finalmente il tweet ufficiale di fortnite da oggi alle ore 11 ci sarà la patch 8.51 non richiederà assolutamente il downtime dei server ma ci diranno che comunque dovremmo scaricare qualche dato il nuovo client quindi magari modifiche nella pre lobby quindi proprio la finestra che ci appare per dare l'avvio del gioco e staremo a vedere se in questa patch ci saranno cose nuove una ci sarà di certo ed è la bomba quella oscura la shadow bomb ragazzi arriva direttamente nelle news in game ufficiali con la descrizione nelle ombre furtività e utilità fanno grandi sorprese non è ancora stato rilasciato un gameplay ufficiale di questa shadow bomb ma si pensa che dalla forma ragazzi che è molto molto simile alla granata fumogena possa appunto rilasciare un'aura più o meno intensa che permetta quindi di fare degli attacchi in furtività magari anche senza fare rumore da parte dell'utilizzatore staremo ovviamente a vedere perché anch'io sono molto curioso anche di sapere come mai hanno deciso di inserire nell'ultima settimana della season addirittura un nuovo oggetto una nuova arma staremo a vedere la sua utilità e se per caso avrà una connessione con la prossima season ma andiamo avanti attenzione ragazzi account merge and date fine della possibilità di associare due account vi ricordo che c'è la possibilità di fondere due account in modo da trasferire tutte le skin tutti i vbucks e i lama per chi gioca salva al mondo in un account principale vi ricordo però ragazzi che questo messaggio dice che potremmo solo fondere gli account fino al 6 maggio due giorni prima dell'inizio della season 9 quindi ufficiale ragazzi data di inizio season 9 il giorno 8 maggio per chi volesse saperne di più può trovare l'unione di account direttamente nel sito ufficiale di epic games che vi ricorda delle regole importantissime perché ci sono degli account non idonei alla fusione io ve lo dico io non lo farò ma se volete tipo delle skin vecchie non si può fare ma c'è gente che l'ha fatto non è successo niente vi pigliate un account fate la fusione e avete il vostro account principale con le skin a voi desiderate detto questo ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale noi ci vediamo oggi alle 13 in live ciao